1, 2, 3, 4 Ecco, è un maggiore Ah, la pace, c'ho di questo momento Ancora i relax qua Sia Norma Sono la numero 1 La numero 1 Poi me che le baglio un attimo ai ragazzi Dai Biofa Povero Mona Povero Mona Ancora non è come la sua sigletta Però non darsi in messa Houston Cos'è Houston? No, sì Ho deciso di chiamarti Houston Perché abbiamo un problema È evidente Biofa mio, è un disastro Mi te la metto là Sotto canestro Basta che te schiacci Non te la butti dentro Te la metto davanti la porta Non te la cacci in rete Ti capisci? C'è un problema Non so più cosa fare Gomagna Sughetto con le seppe Senza Bavariol E adesso con la camisa Piena di Maggi 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 Ascolta ma mi ti domando perché non voglio fare brutte figure dopo come la gente magari Digo, me in albero e sono una mona, quel video ti conto che sei in giro, ma sei finto? Che video? Quel che è il dissi 150.000, 350.000, ah, basta, sei una parodia, sei finto, sei fatta Benissimo, come te vuoi che un Presidente del Consiglio dissi una roba del genere, non ti puoi credere a tutti quei che gira, benissimo, benissimo l'ho fatta, ho veramente miso, trovo i muli che ha fatto sta roba, mi ha fatto un applauso dei giorni, perché è incredibile, perché un conto è l'esagerazione, ma cosa veramente oltre, trovo ridere, non puoi essere bene, cioè noi siamo più credibili a quella roba là, cofiamo le nostre monadine, perché l'ho proprio... Secondo me l'ho fatta sì, li ottenivano un poco meno esagerati, non poteva sembrare credibile... Se era un pochettino, un pochettino meno esagerato, gli era fatta, che credeva a tutti, così... Gussinose, troppo facile, ti guardi, ti ridi, coccoli, un po' troppo oltre, sopra le righe... Coccoli, sì, 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 sì... Cagano un minimo di 1.500 euro di spesa, potrà recuperare 150 euro, in un anno diventeranno 300 euro, non solo, poi ci sarà il super bonus, se uno spende tanto, e quindi attenzione, tanto non significa di importo, acquisti di importo rilevante, anche un singolo caffè e quindi tanti acquisti continuativi, i primi 100 mila nel semestre avranno 1.500 euro a testa, in più ci sono 50 milioni all'anno per una lotteria con estazioni periodiche, abbiamo creato un meccanismo, abbiamo cresso a tutti i gestori delle carte, questi sistemi di pagamento elettronici di partecipare a questo progetto, abbassando commissioni di vari commercianti, creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi. Mi chiamo Bond, Eurobond. Cari italiani, questo è il nostro piano Marshall, raddrizzate le orecchie, che importante, con un minimo di spese di 1.500 euro, potrà recuperare 150 euro, in un anno diventeranno 300 euro. Cioè non so più cosa fare, allora ti comandai, di anche una che era abbastanza facile, cioè Daria, era facile, era facile, la c'è mai un giro Daria, cioè non per dirmi, insomma questo doveva darti degli indizi, insomma, che era una certa facilità, cioè niente anche E allora portiamo avanti questa incredibile missione, questa incredibile missione di portare i testi triestini all'interno delle musiche dei grandi gruppi, abbiamo fatto questo esperimento con i Pink Floyd, abbiamo fatto un altro esperimento con i Beatles e oggi tocca ai Queen. I Queen, che è uno dei miei gruppi preferiti, mi lo voglio proprio bene, però secondo me tutto sommato le metriche gli erano proprio robe triestine, è evidente che Freddie Mercury faceva le bozze in triestine, come gli italiani, quando fa le bozze e scrive una specie di inglese maccheronico, lo rifaceva in triestine maccheronico, così è abbastanza evidente, Freddie Mercury in questo brano segueva ispirato a Viva la Epobon. G'avevo un porco ma purtroppo è crepato, per farlo bello g'avevo ogni giorno incoconato, peccato, viva la Epobon. G'avevo poi una mula mega molato, sono riuscito solamente a esclamare che è peccato, peccato, viva la Epobon, 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 Epobon. La galina, con due testi, sventola la barde su Trieste, la galina, con due testi, la se sui colli, 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 yeah, qua dei pastecci e ci se pieni. Si è uffo, ti ho trovato una decente finalmente perché ti ha questa ricerca, ragazzo mio, ti piace solo robe orrende, sono un latrin lover, queste robe veramente che mi stupisci, mi colpisci dove che te arrivi. Ecco a Trieste, se arriva i titini, se ga in accorto tutti che i ragobi, anche i scalini, che è lunghi, famiglia dei Gobon. Ecco a Trieste, se arriva i alleati, se ga in accorto tutti che i ragobi, fin i gatti, che è lunghi, famiglia dei Gobon, 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 Gobon. Poi c'è un cugino che fa un sistema piramidale e se porti un amico quei 300 euro diventano 450. Ma come te fa, e lo dico sempre per la tua autostima, come te fa a essere così universalmente il cool de tutti? Mi voglio scrivere un libro sulla tua storia, lo scrivo per vincere il premio Kulitzer, perché non puoi essere che mi sto a vincere. Ascolta, adesso vado che... Gobo il pare, goba amare, goba anche una parte della sua sorella. Iera goba, anche quella, se tutti i gobi, 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 yeah. Vara quanto gobi che hai sé. Non so, poi ci sarà il super bonus. Se uno spende tanto, anche un singolo caffè mi ha preso tante volte, i piccoli prodotti mi ha preso tante volte, che sono diversi che prendono i prodotti che costa tanto, perché è più facile seguire questo sistema. Tanti piccoli acquisti, i primi 100.000 SMS avranno 1.500 euro a testa. È una mountain bike cambio Shimano, signori. Tutti desiderano una mountain bike cambio Shimano, signori. Godado una piada alla tavola Corrotto il biciera e la cichera Gli era troppo piccola Per l'amor insieme a ti Manogo le chiave del mio porton Marietta dai butta il paionzo Tavola cichera Per far l'amor con ti Mi resto in porton Biofat, sono una tragedia Anche ieri ti davo a tutti i consigli per andare a testa d'aria Che era anche una roba abbastanza facile Cosa ti ho detto, mi? Allora, mi quando va alla nostra fanage Arrivo su con eleganza e garbo Ma con eleganza e garbo Non era con eleganza e garbo Ma cos'è l'influenza intestinale? Ma figlio mio L'influenza intestinale è la gara del cervello La gara del cervello Ti dico subito Ma non sei Ma se pezzo è diarea Roba che non sei più comprensibili Non basta In più ci sono 50 milioni l'anno Per una lotteria periodica La mettiamo così A c***o Ogni tanto Che abbiamo deciso di fare Grazie al nostro comitato tecnico scientifico di expertise Composto da Vanna Marchi Il baffo e mago del nascimento Abbiamo ritrovato Grazie ad una ricerca importante del nostro comitato Abbiamo ritrovato il mago del nascimento Che era pensato in un carcere in Brasile Che è un problema terribile Butta zo quel paio Che mi dormo in portone Butta zo quel paio Che mi dormo in portone Butta zo 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 quel mio paio Che dormo in portone È un problema terribile Scogli Mi lasciamo andare adesso Che devo No Devo chiamare No Sì Perché C'è il piatto L'angue qua E sì E sta suocera Ciò che Non muore al colpo Però Le ha un'età Qua C'è l'eredità Le soldini Le beccate Bon Dai Fammi andare Fammi andare Bon Bon Curite Sa Curite Qualsiasi roba sia Ti curite C'è quel che te voglio Tutto c'è il tutto Ciao Dio 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 Col mago nonascimento Questo gruppo di esperti Questi tecnici incredibili Abbiamo pensato di proporre anche Questo set di pentole Signori Pentole antiaderenti Fondo di un centimetro Così le massai Non si arrabbiano Che si attacca al cibo Tante volte Invece così Rimane naturale Fondo di un centimetro Alle prime Cento telefonate Diamo anche Un set di cortelli Scioguri in omaggio D'accordo? E mi col mos E ti col tram Andiamo a servo La doma E mi col mos E ti col tram Andiamo a servo La doma E mi col zuf E ti col pan E mi col zuf E ti col pan Andiamo a servo La doma E mi col zuf E ti col pan A servola Se ti te va Te troverà Una pergola Bevilò Bevilò Allora andiamo Vediamo qua se Se è nostra La videochiamo Sto giro la videochiamo Dolcissima Grande Sono contentato Con il videochiamato No Era per unire L'utile Al dilettevole Sono tre giorni Che non vado del corpo Ho detto Le agguardo E magari E devo dirti Che già il primo impatto Se robe che se muovi Se la mamma Te domanda Se la cerca Se la guarda Se la mamma Te domanda Se la cerca Se la guarda Dove sei Bertoli Dichelo Che se andai In casi Sono quelli Che rimangono Sempre affilati Così la messaia Non deve andare Ad affilare Questi prodotti E poi Un viaggio Nella memoria Signori Questo è un barattolo Di borrotti Quanti sono Ecco Chi indovina Il numero Di borrotti Quanti sono Vince C'è un viaggio A Poggi Bonsi Che Poggi Bonsi Ci piace moltissimo Mio marito Si mio marito Se è buon In tutti i giorni E il se è tre volte buon Ma se un giorno Corriverà il weekend Me onzerà per bene Col suo baston Col suo baston Yeah Domenica Me onzi Domenica Me onzi Col baston Ma se è buon Ascolta no Volevo dirti perché sta Mi preoccupo Comunque la famiglia Nonostante tutto Mi preoccupo Come sei con mamma Glielo preoccupato Come ne sta Come ancora ben E no Dovemo fare qualcosa Bisogna arrivare Al più presto Al pinocchietto De mogano Cara mia Ti capisci Cioè in tempi brevi Perché qua Se bisogno Non arrabbiate Ti mori che il fil che va Ti mori che il fil che va E ti mori che lo E ti mori che lo Ti mori che il fil che va E il Belloso mandrio Ti mori che il fil che va Se che sto anno Ho visto la collezione Autunno-inverno De bare In giro C'ho cose roba bella Elegante Vale la pena Se peccà moris L'altro anno Che magari cambia la moda E ti fa Finisci Che ti fa ancora Non so Se l'altro anno Magari gli fa le bare A zampa Se peccà Questa è bella Ti capisci Cioè Cogliamo l'occasione Carpe diem Non so Se peccà Ti capisci Se un caliger Te sa che la mia mamma No se un caliger Se un marangon Te sa che la mia mamma La sa un marangon Se un caliger La mia mamma Se un marangon La mia mamma Te sa che la sa un marangon Marangon Allora noi Concludiamo con la cosa più importante Questa è la cosa più importante Inoltre Per la gioia Di tutte le massaie D'Italia Faremo sì signori Che Giorgio Mastrota Diventi Senatore a vita D'accordo? G'avevo un porco E se è crepato Oi che peccato 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 Che se è crepato God knows Purtroppo Il se è crepato Bonbon Non arrabbiarte Non arrabbiarte Che comunque Non possono ringraziarte Vara Non tanto per quel Che te ha fatto per me Nella vita Ma tanto perché adesso Mettiamo di andare del corpo Grazie Grazie Ciao splendida Ciao Fate guardare ancora un attimo Fammi un sorriso Dai L'ultimo sorrisetto Dai Come che c'è ti Dai Ecco io Ecco io Pronti Grande Grande Vado Meravigliosa Dio Dio Te vedi che sono utile Te vedi che sono utile Te c'è un scopo nella vita Anche a me Dio Dio Macete è un programma Evidentemente prodotto da Le culatte Muli Se c'è di rosini In un anno diventeranno 300 euro 300 euro 300 300 euro In un anno diventeranno 300 euro Signori E una Muntain bike Cambio Scima Grazie Grazie Abbiamo pensato Di proporre I coltelli Shogun In omaggio D'accordo Diamo anche un set Di coltelli Shogun In omaggio D'accordo Sono quelli D'accordo 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 Grazie a tutti.